Ciao a tutti, sono Claudio Sensi, ci troviamo a Telpedra, abbiamo da poco finito il corso di Kobido, un corso molto interessante che può non mancare a chiunque voglia praticare il massaggio perché nel viso ci si aspetta sempre qualche cosa in più. Posso dire che l'esaltazione della bellezza, il comiato della giovinezza, la definizione non possono essere ignorati. Io invito tutti di provare questa nuova tecnica che non è certamente da sottovalutare. Io saluto a tutti e spero che nei prossimi corsi ci sia molto più gente perché vale la pena sostenere questo nuovo progetto di massaggio in viso e che è dove la gente voglia trovare il miglior beneficio e il miglior benessere per se stesso e per gli altri.